Musica Incidente questa sera venerdì 20 aprile sulla 4.60 alla testa di Valperga poco dopo le 18.00 a scontrarsi due vetture, una Fiat Grande Punto e una Volkswagen Golf GTI. La Punto dopo l'impatto ha terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata, mentre la Golf è uscita fuoristrada finendo nel fosso che la costeggia. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese e i carabinieri. I conducenti delle vetture sono stati trasportati in ospedale per controlli non sono gravi, ma certamente in corso sulla dinamica dell'incidente. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.